Ciao a tutti! Speriamo davvero che questi video tutorial di Autodoc sulla riparazione dell'auto possano piacerti. Ecco gli strumenti che saranno necessari. Tutti gli articoli sono disponibili nell'app di Autodoc o sul nostro sito web. Troverai il link nella descrizione. L'app di Autodoc. Tutti i ricambi auto ai prezzi migliori sul proprio telefono. Provare per credere. Autodoc. Tutti i ricambi auto ai prezzi migliori. ... ... Iscriviti al nostro canale e clicca sulla campanella. In caso ti interessi uno dei prodotti, potrai trovare il link nella descrizione. Iscriviti al canale. 6. Scravinci la piattazica per l'amore dei sottotitoli del nostro pervincaso. 7. Rafforzate la piattazica per l'amore della pinza. 8. Scravinci la piattazica per l'amore della pinza. AUTODOC raccomanda, evitiamo che attravi la piattazica per l'amore della pinza. 9. Sottotitoli e spostituo il piattazico. 7. Comprite la ruota di scherzo del filo. 8. Usa la ruota di scherzo del filo. AUTODOC raccomanda. 9. Adesso la ruota di scherzo del filo. AUTODOC raccomanda. 10. Adesso la ruota di scherzo del filo. 11. Direi la ruota di scherzo del filo. Per ulteriori informazioni consulta la descrizione presente sotto il video. Grazie per la visione!